Un'intervista a Gigi De Palo, presidente del forum delle associazioni familiari, occupa un posto importante all'interno del numero di vita nuova in edicola questa settimana. È richiamata dalla foto grande di copertina dove trova posto l'editoriale di Don Paolo Rakic dedicato al rapporto uomo-natura. Le pagine di attualità del settimanale diocesano si occupano del caso Lambert e delle vicende di Bibbiano, ma dedicano spazio anche alla festa di Gioacchino ed Anna, patroni dei nonni. Come al solito, la sezione della chiesa locale racconta anche di persone, in questo caso Giovanna Longo, nuova sorella maggiore delle Francescane del Vangelo. Questa settimana all'interno del giornale c'è la pagina dell'Unitalsi e Vita Nuova si occupa anche dei farmaci blocca pubertà e dell'ondata di caldo, ma anche di demografia e di clima. Molto ricche le pagine di cultura e spettacolo che chiudono il giornale nel nome di strelere d'annunzio, ma ricordando anche Luciano De Crescenzo e Andrea Camilleri. Vita Nuova si può acquistare anche nelle parrocchie.